Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, eccoci qui come tutti i martedì con il Paese delle Meraviglie, questo ottovolante speciale che si occupa di enogastronomia abruzzese, di prodotti tipici regionali e di territorio. Questa sera noi abbiamo una puntata molto ma molto particolare perché abbiamo un prodotto particolare, io ho una scheda che adesso riassume proprio in sintesi di che si tratta, è un prodotto della provincia di Teramo, di una località poi particolare che è Bisenti, ma credo che venga questo prodotto fatto anche nella Val Fino e sui Monti della Laga, questa è la zona di origine, è una categoria particolare perché parliamo di pasta, pasta alimentare, è un primo piatto e su questo non ci sono discussioni, è un tipo di cucina tradizionale abruzzese, è una cucina molto semplice, è una cucina quasi contadina perché gli ingredienti sono quelli basilari che si trovano e si trovavano in tutte le case e in tutte le zone della nostra regione, parliamo dell'acqua e della farina, sono questi gli ingredienti principali di un prodotto molto ma molto particolare che è la pasta alla mulinara di Bisenti, questo è il nostro prodotto che è qui in bella mostra nel nostro studio, già condito come vedete con un sugo molto particolare, mentre nella parte che adesso la regia ci inquadra, eccola qua, il prodotto è appena fatto dalle mani sapienti delle massaie, delle signore, che soprattutto nelle case adesso continuano questa grande tradizione abruzzese. Detto ciò, ecco la squadra del Paese delle Meraviglie, bella schierata qui in prima... Tutto bene, sì? Tutto bene, sì sì. Anna Di Giorgio che curerà la scheda del territorio e quant'altro, e poi i nostri esperti, in primis il nostro Mimmo D'Alessio, delegato dell'Accademia della Cucina e abbiamo investito di un ruolo la scorsa puntata di giudice delle indagini preliminari perché il nostro è un processo, quindi ci vuole anche chi ha fatto e fa le indagini prima del dibattimento. Ancora un altro personaggio, il professor Sandro Sonsini, professore universitario, ma in questo caso esperto di gastronomie perché anche lui è un componente dell'Accademia Italiana della Cucina ed è il nostro esperto di territorio. Che territorio è quello dove c'è la pasta alla mulinara? Interessantissimo, lo scopriremo attraverso le schede. È stato interessante, no? Molto, molto. Basta dire che in un'area di pochi chilometri quadrati 19 mulini. Mimmo, invece la pasta alla mulinara va scritta e detta ovviamente con la U o con la O? Beh, va alla mulinara perché poi in dialetto magari da zona in zona qualcuno dice mulinara, qualcuno dice mulinara, sicuramente si dice pasta alla mulinara, maccherone alla mulinara e non maccheroni alla mugnaia per un motivo semplicissimo perché da noi in dialetto si dice lo mulinare, si dice lo mulini e la mugnaia è un termine un po' troppo italiano, letterario. Adesso lo spiegheremo quando si è insediato il tribunale, il perché, il per come di questi termini quasi similari e anche se questa denominazione, questo nome deriva da mulino o da manovra con le mani che fanno le massai insediamo il tribunale, tutti i due avvocati. E allora abbiamo l'avvocato, eccolo qua, Mimmo Russi che questa sera è l'avvocato dell'accusa. Lui accuserà la pasta, lanciamone urdi, accusa la pasta della mulinara. Piatto pesante. Pesante, fermiamoci qui. Poi abbiamo l'avvocato della difesa che è Massimo Di Michele. Buonasera. Una difesa della mulinara subito. Beh, è un pasto leggerissimo e digeribilissimo. Leggero, fermiamoci qui. Come vedete i pareri già sono contrastanti. Uno dice bianco, uno dice nere. È pesante e leggerissimo. E avrà una gatta da pelare molto importante a questo punto il nostro giudice di questa sera. E il giudice di questa sera è una sorpresa perché fino a questo momento abbiamo avuto sempre dei giudici maschi. Invece questa sera il giudice è una donna. E che donna? Eccola qua. Franca Minucci che si accoda nella sua postazione. Buonasera giudice. Franca Minucci è un'insegnante, attrice teatrale, insomma ha tanti ruoli. Però noi questa sera l'abbiamo investita di questo particolare compito. Lei deve giudicare la pasta alla mulinara. Che mi è particolarmente vicino come argomento. Perché? Ma perché intanto sulla pasta io ho molto riflettuto, molto pensato intorno alla pasta, questo alimento primario della nostra cultura e della nostra tradizione. Ma anche perché io vengo da origini bisentine, mia madre era di Bisenti ed io conosco per certi versi questo territorio per cui in qualche modo sono vicina all'argomento. Certamente di parte. Perfetto. Vogliamo presentare gli altri ospiti? Gli ospiti di Bisenti che sono qui. Una bella delegazione. Allora abbiamo Guido De Luca, sindaco di Bisenti, bentrovato sindaco. Che è avvocato pure lui, quindi può dire la sua. Quindi insomma, avrà argomentazioni pertinenti insomma. Poi accanto al sindaco abbiamo Giselda Antonelli, professoressa dell'Università d'Annunzio, professoressa di Scienze Sociali. Quindi anche lei un po' dentro alla questione anche delle tradizioni gastronomiche. Grazie dunque per aver accolto il nostro invito. Poi abbiamo Giuditta Di Martino, architetto, che ci ha anche condotto un po' alla scoperta di Bisenti nel corso della nostra sortita. Visita sul posto. E poi abbiamo Marcello De Antonis, esperto di turismo. Buonasera. Buonasera. Loro sono i nostri amici di Bisenti, ci hanno accolto quando abbiamo realizzato i filmati che adesso vedrete perché siamo andati a Bisenti proprio per... per realizzare servizi filmati sulla pasta alla murinara e vedrete i servizi tra poco.